Te Channel.u, il canale social foto video degli animali domestici, presenta, il coniglio ariete nano. Sono chiamati ariete tutte le razze di conigli con orecchie cadenti ai lati della testa e incapaci di movimento. Questa razza è stata selezionata negli USA e riconosciuta ufficialmente nel 1974. Le orecchie carnose e pelose cadono a forma di ferro di cavallo. Le varietà di colore sono molto numerose e sono ammesse tutte le colorazioni eccetto quella argentata. Se ti è piaciuto, metti un mi piace a te Channel e condividi il post. Grazie.